Io sono Antonella Mori e sono la titolare dell'azienda agricola Podere San Pierino. La qualità di vita è la libertà di vivere in campagna, a contatto con la natura e fare un po' quello che si vuole poi alla fine. Il vino per me rappresenta l'essenza del mio lavoro. Un buon vino deve essere piacevole al gusto, all'olfatto e soprattutto all'anima. Vedere la mia bottiglia consumata da altre persone mi fa piacere, soprattutto quando vedo che sono allegre e apprezzano il mio prodotto e il frutto del mio lavoro. Quando vado a raccontare il mio vino ho provo orgoglio perché è quello che ho creato io. Io sono arrivata a lavorare con il vino perché fondamentalmente c'era la mia famiglia alle spalle. Poi ho fatto un percorso personale perché ho fatto prima altri lavori e poi ho deciso appunto di prendere in mano l'azienda familiare. Secondo me si può avere innovazione e tradizione, non è facile ma ci si può riuscire. Non è facile perché occorrono molti investimenti però con tanta passione ci si può riuscire.